Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, a questa zuppa di poro di oggi 27 dicembre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto vi faccio tutti gli auguri che si possa per questo fantastico, si fa per dire, Natale, passato. Anzi, posso dirvi una cosa? Voi dovete pensare che questo Natale, di cui vi faccio i grandi auguri, si contraddistingue per due cose pazzesche, secondo me. Una storia di cronaca, di piccola cronaca di Torino, in cui una famiglia, erano in otto in casa, quindi aveva ospitato qualcuno in più rispetto a quello che era possibile, e viene denunciata dai vicini. I vicini denunciano questa famiglia perché aveva ospitato qualche persona in più, aveva infranto le leggi, sì, certamente. Ma il principio, cioè del vicino, dell'atore che denuncia, ecco, questo è l'imbarbarimento, secondo me, in cui noi ci siamo trovati. E la seconda cosa è le FAQ. Le FAQ sono le Frequently Asked Questions, cioè le domande frequentemente fatte dai cittadini, pensa un po' quante domande faranno all'AIFA, e le risposte appunto dell'AIFA, cioè l'Agenzia Italiana per il Farmaco, la quale, in una recente, come possiamo dire, sezione di domande e risposte, dice sì, arriverà il vaccino, ma attenzione, perché il vaccino non è un contratto di libertà, non vi dà la libertà. Cioè, sostanzialmente, l'AIFA è una di quelle che sostiene che noi non siamo liberi, e come ho scritto io sulle mie pagine Instagram e sui miei profili Facebook e social, noi dobbiamo non solo farci dire dall'AIFA che non siamo liberi, cosa che già sapevamo e che viviamo nella vita degli altri, come le denunce di Torino, ma soprattutto loro devono ribadire e sottolineare che non è che se vi vaccinate poi vi potete sentire liberi. Sempre schiavi siete. Io la trovo fantastica. Intanto come si permettono queste a definire gli spazi di libertà? E nessun farmaco può definire gli spazi di libertà nella nostra civiltà, dal mio punto di vista. Ma comunque, evidentemente, le cose sono un po' diverse. Vedete tutta la frase esatta? Perché io pensavo fosse inizialmente una fake news, poi sono andato sul sito dell'AIFA alle domande e risposte e questi veramente dicono che ci concedono la libertà o ce la tolgono e il vaccino non è una di quelle che ci può concedere la libertà. È una cosa straordinaria. Riguardo poi ai giornali di oggi, beh, ci sono due titoli fondamentali. Vaccini i primi 2000 e quello che Belpietro considera una specie di show mediatico con le maggiorette per questi piccoli numeri di vaccini che arrivano allo Spallanzani di Roma con questo ridicolo camion frigorifero che arriva a Roma ascoltato da carabinieri e poliziotti. Strano che non ci sia anche la Guardia di Finanza perché bisogna essere bipartisan nelle scorte, evidentemente. Belpietro, come possiamo dire, ironizza questa gran cassa sui vaccini che arrivano allo Spallanzani. Ore otto. Insomma, è davvero divertente il pezzo di Belpietro come sono divertenti le fanfare di tutti gli altri giornali. Beh, in più interessante dal nostro punto di vista il titolo di Repubblica. Speranza. Il vaccino ci salverà ma serviranno altre zone rosse. Ricordatevi, dovete morire! Perché potrebbe anche dire questo il ministro del Senato. Potrebbe dire, beh, sì, insomma, ragazze, attenzione, vi salviamo col vaccino, forse. Il Covid non ve lo prendete? Forse. Ma potreste prendervi la tubercolosi oppure potreste prendervi un cancro oppure potreste avere un infarto. Quindi state attenti, non fumate, non uscite di casa, non attraversate la strada. Cioè, voglio dire, siamo in una specie di clima per il quale ormai siamo tutti consegnati a maggiori chiusure e zone rosse. Qualsiasi cosa possa venire. Oggi ci sono così, un passant dei pezzi sui giornali che ci dicono, ad esempio, che non riaprirà la stagione scistica al 7, come se nulla fosse. È una cosa pazzesca. Partenza per pochi. Poi il vaccino, vediamo. La vera campagna, ad aprile, dice il messaggero, l'infografica fatta meglio sul numero dei vaccini è sul Corriere della Sera. Mi sembra che sia corredata poi da un pezzo di Lorenzo Savia in cui c'è il cronoprogramma dei vaccini. La cosa un po' ridicola, se mi posso permettere di questo pezzo, non è il cronoprogramma che fa vedere quanti migliori vaccini da uno o dall'altro arriveranno in Italia, quanti sono le dosi che arriveranno in Italia, ma è il fatto che non c'è neanche il minimo dubbio che ci sia una disorganizzazione che invece denunciano tutti, ma i giornali non se ne accorgono, fino a quando non vendranno proprio una copia. Cioè, la copia la comprerà la cameriere di Arcuri e la filippina di Arcuri e Arcuri o il cameriere di Arcuri e la fidanzata di Arcuri lì a Siena, insomma, quando compreranno soltanto loro quattro i giornali avremo almeno la giustificazione che sono fatti al loro beneficio i giornali, ma siccome ci dovrebbero essere anche delle persone normali che leggono i giornali, le persone normali sanno che il problema non è l'arrivo soltanto dei vaccini dall'estero, ma l'organizzazione dei vaccini, perché abbiamo fatto tutto sto tram tram per far arrivare 9.800 dosi con un pulmino dal Brennero all'Italia, e pensate un po' voi i milioni di dosi che arriveranno affidate a Der Kommissar e alla sua arroganza. Oggi è venuto intervistato come sempre da un giornale, chi è che lo intervista oggi in Corriere della Sera? Lì c'è una specie di, come sempre, Totolo e Mokò, avete presente, sdraiato davanti all'imperatore, il giornalista, d'altronde lo comprendo perché ormai tutti dipendiamo da Arcuri, l'ILVA dipende da Arcuri, l'acciaio di Stato dipende da Arcuri, ogni provvidenza pubblica dipende da Arcuri, i vaccini dipendono da Arcuri, le seringhe dipendono da Arcuri, le mascherine dipendono da Arcuri, i respiratori dipendono da Arcuri, se voi avete un problema oggi ce l'avete a Arcuri. Ricolfi, fantastico, oggi sul giornale che ci spiega una cosa che aveva già spiegato a Quarta Repubblica e cioè che questi che ci governano ci hanno governato col fare degli struzzi e che Speranza secondo Ricolfi è il peggiore. Quindi vediamo che altro, beh, fantastico oggi il fondo di Maurizio Molinari che io consideravo un grandissimo giornalista, un grandissimo esperto di politica estera, ma oggi scrive un pezzo che io dico, voglio dire, ma che cosa gli ha preso al direttore Molinari? Spiega in un'articolessa di fondo del suo giornale che questa è la grande vittoria dell'Occidente perché il vaccino è uscito dai laboratori tedeschi, americani ed europei e questa è la grande vittoria del biotech occidentale contro non so chi. Eh, però, toc toc, Molinari! Ma scusami, il vaccino cinese si farà schifo, sarà dei comunisti, io figure se gli piace il vaccino cinese, ma c'è ed è arrivato prima del nostro, forse proprio perché ci hanno nascosto tante verità, ma c'è. E lo Sputnik, il vicino russo, dove lo mettiamo? Adesso francamente dire che il vaccino è stato fatto soltanto dalla grande invenzione degli laboratori americani e europei mi sembra un tantino esagerato. Nel frattempo molti approfondimenti sul tasso di contagiosità veneta che nessuno capisce perché è così alto e il tasso soprattutto di al 36% è tre volte quello nazionale e poi c'è un'altra cosa stupenda su questo virus mutato e il falso allarme del virus mutato l'avevamo un po' intuito anche noi, vi ricorderete Repubblica che dice il pericolo del virus dotato soprattutto per i più giovani. Oggi, secondo il fatto di cui ovviamente non mi fido, oggi c'è un pezzo di travaglio dicendo quanto è bello quest'anno di Conte appunto, insomma, avete capito il senso di quel giornale, ma la cosa incredibile del fatto quotidiano oggi che dice la variante inglese tutti asintomatici Clementi, un virologo, uno dei tanti virologi, poi c'è sempre il virologo che ti può essere utile alla bisogna, questa volta lo è Clementi che dice la variante inglese è più contagiosa ma meno pericolosa. Allora io mi chiedo ma scusami, allora perché abbiamo bloccato tanti cittadini italiani a un'ora dal gate di Heathrow o di Gatwick, non so dove cavolo fossero, li abbiamo bloccati e li abbiamo fatti venire in Italia, abbiamo fatto questo speranza d'allarme, mentre abbracciavamo un cinese qualche anno fa, qualche mese fa, scusatemi, adesso abbiamo bloccato tutti gli italiani che tornavano con una specie di allarme incredibile violando tutte le norme di buonsenso, ora ci scopriamo che questo virus che in Repubblica mi diceva pericolosissimo oggi non solo non è pericoloso ma è addirittura meno letale, meno pericoloso dell'altro, andiamo avanti così. Nel frattempo spunta una nuova cura come il quotidiano nazionale cita, ci sono tante chat su questa cosa di nuova cura e su questo io dico vediamole prima le nuove cure e poi ne parliamo. Nel frattempo una nuova guerra con diciamo la Gran Bretagna perché la nuova guerra con la Gran Bretagna? Perché bisogna fare un paragone secondo il Daily Mail oggi sarebbero arrivate 15 milioni di dosi nelle prossime settimane 15 milioni di vaccinati nelle prossime settimane jabs nelle prossime settimane quindi mentre noi stiamo con le 9 mila dosi per quattro infermieri e con un cronoprogramma che soltanto il Corriere della Sera pensa che sia rispettato il resto del mondo sa perfettamente che non è quelli sono già iniziati nel frattempo dicevamo che l'Europa era la grande vincitrice insieme all'America invece la grande vincitrice mi sembra la Brexit purtroppo con la Cina e con la Russia ma continuiamo così a raccontarci la rava e la fava tanto gli altri vanno a durmire all'ora e noi abbiamo come possiamo dire la cosa di Arcuri è stupenda perché vi devo confessare che io ho goduto come un riccio perché mentre Arcuri diceva le sue solite mentre c'era Totò Lomoco che lo stava intervistando a Der Kommissar che diceva le sue minchiate come al solito per carità con tutto quanto il rispetto nei confronti di Der Kommissar è uno spiraglio dopo una lunga notte serve sì a nuovi vaccini ecco serve un sì che ciò dica Der Kommissar vada lui con la sua Aldo Grasso segnava la stessa cosa meno primule meno primule che sarebbe quella fantasiosa idea che noi abbiamo non abbiamo i vaccini ma abbiamo fatto un rendering con l'architetto Boeri che sembra uscito dall'expo di come si chiama di sala in realtà non abbiamo i vaccini facciamo però già le primule e dice Aldo Grasso meno primule più siringhe meno conferenze stampa più organizzazione pochi centimetri più sopra c'era quell'altro che sproloquiava su tutto il futuro del vaccino e dall'altra parte sotto c'era Aldo Grasso che gli faceva un mazzo così secondo tema di giornata straordinario è quello della Brexit qui il mondo è diviso ma lo stesso Gran Bretagna è divisa se voi leggete il Daily Mail leggete l'inizio della grande era perché dice il suo ministro delle finanze non solo avremo 15 milioni di immuni tra poco e settimane e c'è da crederci ma avremo leggi svincolate dalle burocrazie europee e questa è la grande forza dice il Daily Mail e poi però vedi i giornali loro cioè l'Observe per esempio che dice il grande addio dal 1973 al 2020 siamo stati in Europa e quella è stata una grande nostra diciamo vittoria e poi fa vedere l'Observe come i pescatori in realtà inglesi che avevano votato per andarsene via dell'Europa per essere liberi di pescare quanto gli pareva in realtà così liberi non saranno e poi sui giornali italiani neanche ve lo sto a dire un tribudio siccome non sappiamo che cosa attaccarci ha contro questa Brexit sapete cosa se la prendono i giornali italiani è una cosa veramente popolare e cioè non avremo più l'Erasmus beh per Severnini che peccato non ci sarà più l'Erasmus i giornali è finito l'Erasmus sì certo ci dispiace a tutti quanti noi che non ci sia più l'Erasmus ma che ne sappiamo che nel piano Turinger come l'hanno chiamato il nuovo piano non sia simile all'Erasmus come escludiamo che per esempio tanti giovani vanno a studiare in America pur non essendoci l'Erasmus in università straordinaria qualche volta pagandole qualche volta no non ci sarà più l'Erasmus e di questo ce ne faremo una ragione a Londra arriveremo col passaporto e questa è una grande dramma ma non ci saranno tazzi non ci saranno più operazioni in dumping cioè probabilmente hanno studiato con difficoltà queste duemila pagine di accordo che possono essere come dice Bonanni un divorzio senza vincitori io non lo so però se sia proprio senza vincitori perché il vincitore c'è e si chiamano i cittadini inglesi che hanno votato per dividersi dall'Europa mentre l'Europa è un club che ha perso un suo socio piuttosto importante io non so se possiamo dire che non ci siano vincitori qua un vincitore c'è probabilmente un perdente sicuramente l'Europa senza l'Inghilterra è perdente lo possiamo dire questo o non possiamo neanche dire questo cioè deve essere in questa specie di nostro racconto per cui l'Europa è buona e l'Inghilterra è cattiva l'Inghilterra si fa i vaccini l'Inghilterra ha la ripresa economica l'Inghilterra sta cercando di liberarsi dalle pastorie burocratiche nostre certo non ci sarà l'Elasmos ci dispiace però insomma questa narrativa per cui l'Inghilterra è morta mentre l'Europa è florida beh insomma andate a raccontarla a qualcun altro certo non a noi Prodi ci spiega che sarebbe stato diverso con se ci fosse stato ancora Trump non so in quale modo sarebbe stato diverso ma questo è la tesi due ultime questioni salviniane mettiamole così la prima è il Tribunale di Milano il Tribunale di Milano riesce a decidere con una sentenza le cui motivazioni sono state pubblicate nei giorni scorsi che un migrante che non ha diritto all'asilo politico non ha diritto alla come si chiama al programma all'aiuto sussidiario che deriva dal fatto che nel suo paese non può tornare per gravi conseguenze che avrebbe avuto nel suo paese beh può rimanere in Italia se dice che nel suo paese rischia per il covid io arrivo straordinaria se nel suo paese un immigrato che non ha diritto di stare da noi dice ah lì rischio di prendermi il covid rimane in Italia magari in Veneto io la trovo una cosa straordinaria cioè soltanto la giustizia italiana e poi dite perché gli inglesi sono più fichi di noi perché perché gli anglosassoni perché una stronzata di così poco buonsenso soltanto un latino a zecca carbugli che vuole e ama l'immigrazione irregolare si poteva inventare abbiate pazienza andiamo alla ciccia seconda cosa tutti che sfottano Salvini perché ieri si è messo a fare nel giorno di Natale a dare i pacchi della pace io non ho neanche voluto leggere quegli articoli non li voglio neanche leggere però il concetto è questo TOTTO mandateci voi ma invece di rompere le palle a Salvini ma perché Conte perché Di Maio invece di farsi il brindisino col suo champagne con la sua fidanzata per l'occasione non se ne va a lui a distribuire i due pacchi sì perché lo fai solo a Natale ridicolo io quelli che dicono vabbè l'hai fatto solo a Natale e si ridicolo ma io a me sta pure simpatico Fedes gli ha dato mille euro a uno con la sua Lamborghini e chi se ne frega gli ha dato mille euro sì e allora chi se ne frega ne ha avuto un vantaggio personale non lo so di immagine non lo so quindi io quelli che fanno beneficenza e comunque l'hanno fatta a Natale o la fanno a Pasqua o la fanno a Capodanno o la fanno il 22 maggio ma chi se ne frega l'hanno fatta chiunque essi siano da Zingareggi e Salvini mi sarebbe piaciuto vedere ieri i nostri scappati di casa di parlamentari invece di godersi loro 15.000 euro al mese magari gli scappati di casa quelli dei 5 Stelle quelli che tengono questo governo e lo coccolano come fosse il loro figlioccio andare a regalare qualche pacco di Natale erano partiti ricordate con le pizze che servivano a tavola oggi in realtà alcune pizze gli darebbero purtroppo gli italiani e non dovrebbero ma la cosa sicura è che le pizze non le possono servire o se le servono le servono con 5 persone di scorta che gli tengono i tovagliolini di carta direi che con oggi è tutto vi do appuntamento come sempre domani Quarta Repubblica siamo sempre in onda un po' più pettinato un po' più in ordine ma la zuppa di porro non si ferma mai ed è una minaccia ciao